E' stata una storia che ha fatto il giro dell'Italia non solo, quella che ha riguardato un prestigioso negozio d'antiquariato di Pesaro ed il suo proprietario, accusato di aver sottratto un gargoyle dal Duomo di Milano. Un racconto smentito però dalla giustizia e che finalmente ha reso pace all'antiquario, assolto da tutte le accuse. Ceroni, di fatto, è abituato a ricercare prodotti speciali per clienti speciali, ma non di sicuro a rubarli, come testimonia anche il premio Rotondi e le numerose opere da lui salvate. Semplicemente dai fatti che sono poi risultati agli atti durante il processo, in quanto questo oggetto di 350 kg, un gargoyle, una statua in marmo che stava sul tetto del Duomo di Milano, anzi è il primo oggetto che è stato issato nel 1404 nella cima del Duomo di Milano, che era accaduto durante i bombardamenti del 46 ed era spezzato a terra. Diciamo, questi oggetti che venivano accantonati a seguito dei bombardamenti sono stati, diciamo, illecitamente ceduti nel tempo a chi? A parte il politico che lo chiedeva, a parte il donatore, ma anche alle imprese che riparavano, che finanziavano, che davano delle contropartite, diciamo, non solo religiose, ma anche di fatti. Quindi questo oggetto era stato regolarmente ceduto, cui documenti che si sono trovati nell'archivia dell'opera del Duomo di Milano, era stato ceduto all'ingegner Torno di Milano, i cui nipoti dopo 70-80 anni l'avevano ceduto a un gallerista di Milano, dal quale noi l'avevamo poi acquistato, con il controllo del nucleo dei carabinieri, come facciamo sempre prima di acquistare il nucleo dei carabinieri di Ancona, i quali avevano dato il benestare all'acquisto, non c'era nessuna denuncia. Successivamente noi ci siamo accorti durante il restauro, dopo tre anni in Olanda, a Mastri, perché era destinato a un castello nel Belgio, ci siamo accorti che era marmo di Candoglia, Candoglia è una cava vicina a Milano, esclusiva del Duomo di Milano, questa cava, quindi essendo di marmo di Candoglia non poteva che essere del Duomo, al che noi siamo andati direttamente al Duomo a dire abbiamo questo oggetto che stiamo pulendo e che risulta essere il marmo di Candoglia. Avete notizie? Immediatamente scatta l'allarme, quindi la dichiarazione di furto che ha messo in moto tutto il processo fino al mese scorso, quando le cose sono state, due mesi fa, sono state chiarite da loro stessi, dall'interno del Duomo e soprattutto dalla sovrintendenza le belle arti di Milano, nelle quali la direttrice ha ammesso che non c'era nessuna colpa da parte nostra, ma bensì era stato un errore loro a dichiarare il furto di una cosa che non era stata riconosciuta come tale. Quindi si era tutti in buona fede, si è tutti regolari e quindi la faccenda si è conclusa in questo modo. Però la pubblicità negativa è rimasta nell'aria, il dubbio rimane sempre nell'aria. Questa è la storia del nostro paese.